Asi Anucetelli. Matrimonio saltato. Parla mamma Antonella. La ragazza sta vivendo un periodo difficile. Secondo la mamma, Antonella Mosetti, l'ex Jeffina si trova in un momento di vera e propria crisi. Non solo sentimentale. Sì, perché secondo gli ultimi rumors la figlia dell'ex ragazza di Nonna e Clara e avrebbe visto saltare le nozze già organizzate con lo storico fidanzato, Gianfranco Battistini. Le foto di coppia, sono sparite da Instagram, e la stessa Asia in una storie s racconta di essere intenta nel trasloco. La ragazza viveva a Anzio insieme al compagno ma ora sembra essere tornata a vivere di nuovo a Roma. Lo scorso luglio era arrivata la proposta di matrimonio con tanto di anello di fidanzamento, ed era stata la mamma di Asia, la showgirl Antonella Mosetti, intervistata dal settimanale Diva e Donna, a rivelare la data del fatidico sì. Il 19 giugno del 2019. . . E a pomeriggio 5 Antonella Mosetti, madre della Nucetelli, ha confidato che la situazione è poco chiara. Anche io ho letto tutto su internet e dopo ho chiamato mia figlia. Lei non vive più con me, è andata a vivere da sola, ha spiegato la showgirl a Carmelita D'Urso. . L'ex concorrente della prima edizione del Grande Fratello Vip spiega come la figlia sia molto riservata, specie con lei. Si confida più col padre che con me. . . Per ora non so di più. Al momento la diretta interessata non ha rilasciato alcuna dichiarazione in merito alla sua vita privata. . . Ma come se non bastasse, a preoccupare Antonella Mosetti è anche la scelta di Asia Nucetelli di non mettere più piede in uno studio televisivo. . Una scelta dettata a causa delle numerose critiche sui ritocchini estetici, che a detta della madre, avrebbero ferito profondamente la giovane Asia. . . Mia figlia è stata distrutta psicologicamente, ha detto Antonella Mosetti. Una situazione che ha amareggiato Barbara D'Urso che, dopo il Grande Fratello Vip, aveva promosso Asia a opinionista del suo salotto. . . Il fatto che non sia tornata più in tv mia ferita, sono davvero dispiaciuta, ha confessato Carmelita. . . Una faccenda che ha segnato pure Antonella Mosetti che, in collegamento a Pomeriggio 5, ha fatto un appello a Barbara D'Urso. Solo tu ci puoi riuscire, solo tu puoi convincerla a tornare in tv. . Asia Nuccetelli, magari, presto tornerà in televisione proprio per parlare della sua vita privata e fare chiarezza una volta per tutte. . . .